La tua anima è molto più vicina della mia, la grande anima cosmica. Non è possibile. Tu sei come un angelo. No, io invece mi sono buttata via. E ho fatto l'amore senza amore, per rabbia o per discrezione. Ma ora io devo avanzare verso la pura essenza e tu mi liberai. Ho paura di non essere capace. Io credo nella reincarnazione. E ne ho sentito parlare, è come quando uno diventa un fiore o una farfalla, un elefante. Già, sarebbe così, quasi così. Infatti noi ci siamo già conosciuti in passato. E forse mi ricordo da quando ti ho incontrato. Mi parlo di aver viaggiato moltissimo. Adesso, adesso. Adesso voglio ridirti che ti amo, sì. Allora io posso dirti tutto. Ho tante cose da raccontare. Cose che non ho mai detto. Mio padre era molto fettuoso con me quando ero piccolo. Era un giocattolo per lui.